Nel caso Fildin Mellish, i particolari dopo la pubblicità. Ti è andata di traverso? No, sono le sigarette, padre. Che cosa fumi? Queste. Oh, sono infernali. Prova le nostre e le Nuovo Testamento. Una rivoluzione, filtro incorporato. La provo. Che te ne pare? Buona roba, gusto nuovo. Hanno un elegante pacchetto e l'indulgenza plenaria. Grazie, padre. Fumate il Nuovo Testamento. Le fumo io. Le fumo lui.